La Merkel promuove Monti dopo il vertice di Berlino, esce rafforzata la linea di politica economica di Mario Monti, il premier incassa gli elogi della cancelliera, l'Italia non avrà bisogno dello scudo antispreddo, oggi primo test per saggiare la fiducia sui mercati, l'asta del tesoro per i BTP a 5 e 10 anni pari a 6,5 miliardi di euro. Nelle telefonate intercettate dalla procura di Palermo fra l'ex ministro Mancino e il presidente napolitano vi sarebbero parole pesanti e giudizi taglienti su Berlusconi, Di Pietro e il PM in Groia e quanto rivela Panorama in Edicola oggi. La ricostruzione del settimanale getta altra benzina sul fuoco delle polemiche tra Quirinale e procura di Palermo dopo la decisione del Colle di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Si sposta nella capitale la protesta dei minatori del Sulcis, Napolitano ha espresso solidarietà agli oltre 300 operai che rischiano il posto di lavoro, capisco la loro volontà di lotta, ha detto il capo dello Stato, sul tavolo del Ministero dello Sviluppo, anche l'altra avvertenza sarda, quella dell'Alcoa. L'uragano Isaac, anche se declassato a tempesta tropicale, resta una minaccia per la Louisiana e New Orleans, dove è stato imposto il coprifuoco, sferzate da 20 ad oltre 100 km orari, finora si contano danni ingenti per oltre un miliardo e mezzo di dollari. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette, dunque Angela Merkel promuove il Premier Mario Monti dopo l'incontro di ieri a Berlino. Con le vostre riforme, ha detto la cancelliera, lo spread è sceso, ma invita anche il nostro paese, la Merkel, a non usare lo scudo. E il Premier aggiunge, in questo 2012 abbiamo fatto progressi significativi. Sentiamo. Non chiamiamolo idillio, ma quel grazie è stato bello e forse inatteso, pronunciato alla fine della conferenza stampa da Angela Merkel a Mario Monti, sancisce più che una pace fatta, un sodalizio apparentemente forte, almeno in prospettiva futura. Succede a Berlino ieri, dopo un faccia a faccia di 90 minuti in cui Monti parla dei progressi rilevanti compiuti dal nostro paese, con il contributo generoso, dice, di cittadini e forze politiche evidenziati anche dall'ondamento dei mercati. La Merkel gli risponde confermando fiducia all'esecutivo italiano, in grado, dice, di prendere tutte le misure necessarie. Come dire, l'Italia non ha bisogno di ricorrere allo scudo anti-spread perché può farcela da sola e non c'è alcuna fretta. Ancora la cancelliera si è detta certa del contributo che sta arrivando dal governo italiano nell'affrontare la crisi globale e che lo spread tra BTP e Bund potrà abbassarsi. La crisi, aggiunge la Merkel, necessita di un'agenda ambiziosa di riforme, ma esistono i mezzi per stabilizzare l'eurozona. Qualche divergenza comunque regge tra i due, quella, ad esempio, sulla possibilità di concedere la licenza bancaria al nuovo fondo salva stati. Sarebbe uno strumento formidabile, dice la signora tedesca, ma anche Mario Draghi, precisa, ha detto che sarebbe incompatibile con i trattati che regolano l'Unione. Monti lo conferma, ma ribatte. Ciò che sembra impossibile oggi non è detto che lo sia un domani. La Germania, più di altri, aggiunge, ci ha insegnato che gli sforzi di politica economica devono essere persistenti e quindi non ci si può fermare quando c'è qualche parvenza di buon risultato, ma bisogna andare avanti con determinazione. Quindi spazio ad altri annunci di prossimi taglie nel settore pubblico e di prosecuzione sulla via avviata in Italia in materia di spending review e di applicazione effettiva delle riforme sin cui fatte. Insomma, c'era tensione tra Roma e Berlino prima dell'incontro di ieri con il settimanale Der Spiegel che parlava addirittura di una Germania ricattabile perché in caso di crollo dell'euro a rimetterci in molto sarebbe anche lei. L'immagine è arrivata dal vertice. Quella tensione sembra averla smorzata e più delle immagini ci sono poi quelle parole. Grazie. È stato bello. E in attesa della risposta dei mercati internazionali che apriranno tra poco, oggi c'è un test importante per verificare la fiducia sui nostri titoli di Stato. L'asta dei BTP a 5 e 10 anni emessi dal Tesoro. Occhi puntati sul Ministero del Tesoro per la nuova emissione di BTP. Il tutto esaurito dei nostri bot semestrali, ieri all'asta con un tasso dell'1,58%, in calo di circa un punto rispetto all'emissione del mese scorso è stato un buon segnale, anche perché la richiesta di sottoscrizione è stata di oltre 15 miliardi di euro contro un'offerta dei 9 miliardi. Parafrasando Keynes vuol dire che almeno nel breve periodo non siamo tutti morti, o quantomeno questo credono gli speculatori. Ma i bot purtroppo non sono il termometro ufficiale di questa crisi, che è sui nostri impegni ai 10 anni che gioca pesante. E qui la situazione resta complicata. Lo spread è la differenza fra il rendimento dei nostri buoni decennali e i buoni tedeschi in leggero calo, ma resta comunque l'enormità. Così il clima di piazza a fare ieri è restato prudente, per non dire apatico, come del resto da diversi giorni, una trincea in attesa di conoscere il verdetto tedesco sui poteri da dare alla BCE. Gli entusiasmi per le parole coraggiose di Draghi avevano dato un avvio scoppiettante a questo agosto, ma ora, con i sé e i ma che spuntano sulle misure anticrisi, sembra aver terminato il proprio effetto di stimolo. A fine seduta l'esito delle contrattazioni è sempre di 0, e ieri non ha fatto difetto, piazza a fare è chiuso con meno 0,33%. Altra musica oggi sul debito italiano. Il ministro del Tesoro alza la sticella sui tempi di rimborso e propone BTP a 5 anni, per una cifra che va dagli 1,75 ai 2,5 miliardi di euro. È un pacchetto di BTP a 10 anni, sì, proprio loro, per 3,4 miliardi. Guardando al totale richiesto sembra un'ambizione minore rispetto ai 9 miliardi di ieri, ma con un passo ben più lungo e si saprà presto se è proporzionato la gamba. Nel pomeriggio di ieri la Merkel si è detta convinta che le impressionanti riforme attuate dall'Italia porteranno i loro frutti e contribuiranno alla riduzione dello spread BTP-Bund. Parole incoraggianti dai tedeschi, ma niente di più. Vedremo presto se agli speculatori farà più paura quella che sembra una semplice pacca sulla spalla, piuttosto che l'evidente e logorante incertezza sulle misure anticrisi. Come sempre le borse accettano scommesse. Occupiamoci adesso delle anticipazioni pubblicate oggi dal settimanale Panorama e da alcuni quotidiani che sono destinate a sollevare nuove polemiche. Si tratta dei contenuti delle telefonate intercettate dalla Procura di Palermo tra l'ex ministro dell'Interno Mancino e il presidente Napolitano, che secondo il settimanale avrebbe espresso qualche giudizio tagliente su Berlusconi Di Pietro e il PM palermitano Ingroia. Telefonate per le quali il capo dello Stato ha chiesto la distruzione sollevando il conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale. Sentiamo. Una nuova puntata del giallo politico dell'estate, quello sulle telefonate, forse due, tra il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino sulla trattativa Stato-mafia negli anni delle stragi del 92-93. Mancino e Napolitano parlano nei primi mesi del 2012. La scrive il settimanale Panorama in edicola oggi al centro del servizio. Ci sarebbe il contenuto delle telefonate. La verità sulle intercettazioni che scottano e il titolo del settimanale della Mondadori, secondo il quale il presidente della Repubblica avrebbe espresso giudizi taglienti su Berlusconi Di Pietro e alcuni PM palermitani. Più o meno le stesse parole usate ieri mattina dal leader dell'Italia dei Valori, che sulla vicenda è arrivato a accusare il Quirinale di violazione della Costituzione e di occultamento della verità. Probabilmente Napolitano si sarà lasciato scappare qualche parolaccia di troppo nei confronti dei magistrati di Palermo, ha commentato Di Pietro. Più articolata la verità sulle telefonate anticipata ieri pomeriggio da Panorama, che parla non solo dei commenti sui PM, ma anche nei confronti di Berlusconi e Di Pietro. Una gaffe politica istituzionale, dunque, se le conversazioni fossero rese pubbliche, avessero quei contenuti. Se così fosse, sarebbe un grave illecito. E qualora corrispondesse davvero al tenore delle intercettazioni, il ricatto al Capo dello Stato lo farebbe Panorama con quella copertina, detto il PM titolare dell'inchiesta Antonio Ingroia, che ha poi aggiunto, non parlo, ricordo solo che in passato sulla questione Panorama ha tirato a indovinare. La vicenda dei minatori della Carbon Sulcis. Già oggi una delegazione sarà a Roma in attesa dell'incontro di domani al Ministero dello Sviluppo. Intanto il Presidente Napolitano si schiera decisamente dalla loro parte, mi sento profondamente partecipe, addetto, delle loro condizioni e delle loro ansie. Mentre i loro colleghi si preparavano a trascorrere la quarta notte a 400 metri di profondità nella miniera di Nuragi Figus, ieri alle 20 una delegazione di operai della Carbon Sulcis insieme ai lavoratori dell'Alcoa e dell'Euroallumina sono partiti dal porto di Cagliari. Stamattina arriveranno a Civitavecchia e poi raggiungeranno Roma, dove terranno un sit-in davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà esaminare il pacchetto complessivo della vertenza Sulcis. Sulla strada della loro protesta, i minatori sardi hanno trovato da ieri anche la solidarietà del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha detto, vorrei che i minatori impegnati in una prova durissima sapessero che mi sento profondamente partecipe della loro condizione e delle loro ansie. Il Capo dello Stato ha sottolineato l'importanza dell'incontro fissato per domani al Ministero e si è detto certo che si arriverà ad una soluzione. Capisco fino in fondo la vostra lotta, ha detto Napolitano. Il Ministero domani dovrà esaminare il piano per lo sviluppo del Sulcis proposto da Regione e provincia e basato sull'estrazione di carbone per produrre energia attraverso lo stoccaggio dell'anidride carbonica, un piano che solleva interrogativi perché richiede costi elevati, dice il sottosegretario Claudio Vincenti, che però aggiunge, capiamo l'angoscia dei lavoratori, nessuno di loro verrà lasciato da solo. Intanto cresce l'esasperazione dei minatori della Carbo Sulcis che da quattro giorni sono asseraiati a meno 373 metri di profondità nella loro miniera, una protesta estrema per difendere il proprio lavoro. Ieri il gesto estremo di un operaio, Stefano Meletti, uno dei leader sindacali della protesta, che si è tagliato un polso gridando «è questo che dobbiamo fare? Ci dobbiamo tagliare?». È accaduto durante una conferenza stampa che si è tenuta nelle viscele della terra. Ora l'operaio Meletti sta bene, curato con 10 punti di sutura. Ieri sera è stato dimesso dall'ospedale di Carbonia. In fondo alla loro miniera i minatori custodiscono 690 kg di explosivo e 1220 detonatori. Dicono «siamo pronti a tutto». Un grande patto per l'Italia è quello che lancia oggi il Ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, in un'intervista al quotidiano La Stampa. L'obiettivo, dice, è consentire alle aziende di tornare competitive sui mercati internazionali. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri di domani, programmato per approvare il decretone che contiene le proposte del Ministro della Salute Balduzzi di tassare tra l'altro le bibite casate e allontanare dalle scuole di almeno 500 metri videopoker, ma di cui probabilmente ci sarà un rinvio per la contrarietà, si dice, di alcuni ministri, tra cui Grilli, responsabile del dicastero dell'economia. Oggi sul quotidiano La Stampa parla il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, che lancia la proposta di un grande patto per la produttività. Un appello che il Ministro rivolge in particolare alle parti sociali per superare il difficile momento economico e permettere alle aziende italiane di recuperare competitività sui mercati internazionali e agli stessi lavoratori di aumentare le loro retribuzioni. Secondo il Ministro, l'Italia ha intrapreso la strada giusta, la spesa pubblica è sotto controllo e dal punto di vista del deficit, il nostro Paese è tra i più virtuosi d'Europa. Ora però bisogna affrontare il problema della competitività, ma questo, più che nelle mani della politica, è in quelle delle parti sociali. Negli ultimi 15 anni sotto linea il Ministro abbiamo perso almeno 10 punti rispetto alla media europea e ancora di più nei confronti di Francia e Germania. Una situazione che bisogna affrontare con urgenza, tutti insieme, perché il rischio di uscire dal mercato in moltissimi settori è molto elevato. Lo Stato, ha concluso Passera, potrà accompagnare questo sforzo con normative e incentive adeguate, ma prima di tutto dobbiamo convincerci che anche il nostro Paese ha la volontà di realizzare in poco tempo un grande recupero del tipo di quello che dieci anni fa la Germania ebbe il coraggio di fare. Per dire Passera, non ho nessuna difficoltà a dire che sono un buon ministro, però anche lui stesso è prigioniero di un sistema, che è il sistema del potere romano, che impedisce anche di fare le cose buone a chi vorrebbe farle. Siamo alla legge elettorale, si allontana l'accordo tra i grandi partiti e di conseguenza l'ipotesi di andare a votare già nei prossimi mesi. Fumata nera per la nuova legge elettorale. Il comitato ristretto di Palazzo Madama ieri ha nuovamente rinviato alla prossima settimana ogni indicazione. Un chiaro segnale di indirizzo è arrivato dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Vizzini, che ha escluso che si possa tornare alle urne con l'attuale Porcellum. Ma quelle parole almeno per ora appaiono poco più di un semplice auspicio, visto che la svolta tanto attesa non c'è stata. A poco finora sono serviti i reiterati appelli del Capo dello Stato. Si cerca con fatica l'intesa su un testo condiviso che sembrava quasi trovata dopo le dichiarazioni dei partiti degli ultimi giorni. Ora sembrano solo chiacchiere da ombrellone, condite da una diffusa ma non concreta determinazione a cambiare le regole per il voto. Una cosa certa è che si allontana la prospettiva del ricorso anticipato alle urne, al contrario di quanto detto in tempi non sospetti da Bersani e Alfano. Il PDL fa retromarcia netta sul voto entro novembre e molti dirigenti derubricano quasi a colpo di sole le indiscrezioni di stampa su un Berlusconi preoccupato per le inchieste giudiziarie che lo riguardano e quindi tentato dall'accordo con i democratici per mandare in soffitta il Porcellum e poi andare al voto a novembre. Passi in avanti si registrano sul premio di maggioranza da assegnare al partito, come vorrebbe il PD, e non alla coalizione vincente. Resta lo stallo invece su preferenze o collegi per la scelta di una quota di parlamentari, il resto verrà inserito nel listino bloccato. A sgombrare il campo da ogni ipotesi di do ou des ci pensa il PDLino Quagliariello. Non c'è nessuna ipotesi di baratto, solamente chi crede a Babbo Natale pensa che si potesse fare la legge per poi andare subito alle elezioni. Anna Finocchiaro del PD conferma la disponibilità ad un testo condiviso. Noi riteniamo che una nuova legge elettorale sia una priorità assoluta, lo sosteniamo da mesi, pur avendo presentato da moltissimo tempo un disegno di legge, siamo stati l'unica forza politica a farlo, siamo disponibili ad accantanarlo per divenire ad un accordo. Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori prova a ribattezzare a modo suo il vecchio Porcellum definendo la futura, eventuale legge elettorale, una super porcata. Mercoledì prossimo ancora Extra Omnes, nuovo comitato ristretto in conclave. La notte scorsa intorno alle 2 si sono registrate nuove scosse di terremoto nel nostro paese, la prima di magnitudo 2.1 in provincia di Modena, nelle zone già colpite a maggio, l'epicentro in prossimità dei comuni di Finale Emilia e San Felice sul Panaro. L'altra di magnitudo 2.3 è stata registrata a largo delle coste nord-orientali della Sicilia, davanti a Messina. Torniamo agli esteri, a New Orleans fa meno paura l'uragano Isaac che nelle ultime ore ha perso potenze ed è stato declassato dagli esperti a tempesta tropicale, ma l'allarme resta comunque alto. Sentiamo. I danni già superano abbondantemente i miliardi e mezzo di dollari, ma l'emergenza dell'uragano Isaac continua. È declassato solo da ieri sera a tempesta tropicale, ma l'uragano che ieri ha fragellato la Louisiana con una capacità distruttiva che ha soppeso molti, ha fatto sentire la sua potenza anche in Mississippi, Alabama, Florida, con piogge, inondazioni e venti, fino a 110 km orari. Sien dalle prime ore del suo arrivo, oltre 700.000 persone nei quattro stati interessati all'emergenza sono rimaste senza elettricità. Al buio New Orleans, dove fino a questa mattina, le 14 ore italiane, resterà in vigore il coprifuoco. I semafori non funzionano, così come l'illuminazione stradale. Analoghe le misure imposte anche in numerosi distretti della Louisiana, con le autorità locali che annunciano il rischio di inondazioni di tornado. Intanto, la mareggiata causata da Isaac ha fatto elevare il livello del fiume Mississippi di quasi due metri e mezzo, ma i sistemi di difesa dall'acqua, costruiti dopo il devastante passaggio sette anni fa di Katrina, con un investimento di oltre 14 miliardi di dollari attorno a New Orleans, hanno finora retto. Diversa la situazione in altre contee, in particolare quella di Plaskin in Parrish, dove si registra una vittima. Secondo le previsioni, l'allarme per Isaac potrebbe prolungarsi ancora per 48 ore, ma per tornare alla normalità saranno necessari diversi giorni. E poco distante dalla Florida, in Louisiana, la convention repubblicana ha incoronato il vice di Mitt Romney, il 42enne Paul Ryan, che ha illustrato la politica economica del partito. 42 anni, tre figli e la bionda moglie in perfetto stile repubblicano. Potrebbe essere il numero due scelto da Mitt Romney, l'asso nella manica in grado di tirare, la volata alla rivale di Barack Obama nella corsa alla Casa Bianca. Era poco più che uno sconosciuto anche tra i conservatori, Paul Ryan, fino alla sua designazione come potenziale vicepresidente, ma nella notte a Tampa ha conquistato la convention repubblicana con oltre mezz'ora di un intervento puntato tutto sul rilancio del vecchio sogno dell'America Terra, delle opportunità e del futuro. La nostra generazione ha il compito di dare ai nostri figli lo stato che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, ha detto, attaccando la presidenza Obama. Il nostro problema è che non abbiamo un leader alla Casa Bianca, insiste tra gli applausi. I nostri diritti ci vengono dalla natura e da Dio, non dal governo. Orfano di padre, dall'età di 16 anni, ha giocato la carta dell'elettorato femminile esaltando il ruolo centrale della madre nella sua vita e nella carriera, mentre sul programma ha spinto nei temi economici cari a Romney. Il lavoro sarà duro, non avremo molto tempo a disposizione, ma risolveremo i problemi economici che affliggono il nostro Paese, ha detto, con un piano per rafforzare la classe media e la creazione di 12 milioni di nuovi posti di lavoro nei prossimi quattro anni. Poi l'attacco finale all'attuale presidente responsabile, a suo dire, con un solo mandato del colossale debito pubblico americano. Aboliremo la riforma sanitaria di Obama con oltre 2.000 pagine piene di regole, obblighi, tasse che non possono avere spazio in un Paese libero. Applausi e tripudio finale tra i delegati, quasi una sfida per Mitt Romney che domani nel discorso di accettazione della candidatura dovrà fare di meglio per non venire oscurato dal suo numero due. E siamo al calcio, stasera in campo Inter e Lazio nei play-off di Europa League, entrambe partono dal 2-0 dell'andata con i romeni del Vaslui e gli sloveni del Mura 05. Intanto nelle ultime ore a tenere banco è stato il calciomercato con il clamoroso caso del bulgaro Berbatov che dopo aver detto sì prima alla Fiorentina e poi alla Juventus è andato a finire al Fulham. Sentiamo. Ha fatto litigare Fiorentina e Juventus per una giornata intera e alla fine ha scelto il Fulham. Dimitar Berbatov, 31enne attaccante bulgaro delle Manchester United, è stato il protagonista del terzo-ultimo giorno di mercato. Atteso a Firenze nelle primo pomeriggio per visite mediche e firma, in Toscana non è mai arrivato. A metà del viaggio ha cambiato idea e quando sembrava destinato da portare a Torino l'ultimo colpo di scena. Sul consiglio della moglie, Berbatov ha deciso di restare in Inghilterra, lasciandosi alle spalle l'irritazione della Fiorentina verso la Juve e le spiegazioni un po' imbarazzate di Marotta. Alla Milan, sfumato il ritorno di Kakà, si punta su un rinforzo a centrocampo. Di Arradele, Real Madrid è un obiettivo affascinante ma difficile da raggiungere per l'ingaggio altissimo delle francese. E allora l'alternativa più concreta è rappresentata da Nigel De Jong delle Manchester City. Il Milan lo vorrebbe in prestito e può contare sulla volontà del giocatore, intenzionato a cambiare area con un anno d'anticipo sulla scadenza del contratto. Virtualmente conclusa la campagna acquisti della Roma, che ha la rosa al completo ma guarda al futuro prossimo. Ceduto Bojan, Baldini e Sabatini hanno nel mirino Giuseppe Rossi. L'attaccante delle Villarreal è fermo per i postumi della seconda operazione al ginocchio, ma è un interprete ideale per il 4-3-3 di Zeman. Per questo la Roma sta pensando a prenderlo per gennaio, contando sul fatto che il suo cartellino adesso si potrebbe acquistare con meno di 10 milioni. Non saranno i soldi invece a decidere il futuro di Alessandro Del Piero. L'ex capitano della Juve cerca un finale di carriera stimolante e ha scartato la soluzione svizzera delle Sion. Molto più attraenti sono le offerte di Tottenham e Celtic, che potrebbero regalargli almeno un'altra stagione nelle grande calcio di Premier e Champions League. È davvero tutto per le notizie, vi ricordo il nostro sito in sovraimpressione, tgla7.it. Adesso vi lascio alle previsioni meteo con il colonnello Giuliaccio e poi a seguire al dibattito di Omnibus con Alessandra Sardoni. Buon proseguimento. Grazie.